amiche d'amici di Montediprocita.com buonasera siamo qui al festival della cistecca località Montegrillo a Montediprocita come potete ben vedere ormai già pieno di gente quindi vi invitiamo anche per le serate successive vale a dire caro Enrico per domani sera per sabato e il gran finale domenica sera domenica sera allora abbiamo iniziato direi molto bene tu eri facevi parte dello stand di vivi l'estate che questa sera cosa fa questa sera abbiamo un po' cambiato nel senso che ci siamo dedicati al dolce e quindi siamo stati oggi pomeriggio con l'amico Katari che ci ha fatto le graffette e adesso le stiamo friggendo ok allora poi abbiamo anche come non esiste proprio abbiamo anche degli amici vieni qua allora sei appena arrivato al festival della cistecca come ti sembra il tutto Enrico non andare via che sei il copresentatore tutto bello ben organizzato però ancora devo mangiare quindi ora vado a fare il ticket e quindi per un giudizio sul cibo aspettiamo dopo tu come ti chiami Valentina Valentina come ti sembra tutta l'organizzazione belle Grazie. Vorrei ringraziare alle luci Armando Lavina, Annalisa, allora, Festival della Cistecca, ti abbiamo beccato qui, come vanno le cose? Bene, benissimo, una bella manifestazione, bene organizzata, si sta benissimo, venite tutti qui a Monte di Procida. Oggi è giovedì, potete venire sia venerdì, sabato e poi gran finale la domenica. Va bene. Tu cosa hai assaggiato fino adesso? Le patate. Solo le patate? Sono in attesa del panino. Perfetto. E veniamo anche. Non lo so, non mi posso distrarre un attimo. Scusami, che cosa ti hanno sottratto? Il panino. Ah, il panino, il panino. Ce l'hai tu? Beh, allora. Dove ci mangi ci sono sempre. Dove ci mangi? Allora, vogliamo dirlo grande successo del saggio di California, giusto per rimanere in tema? Sì, grande successo, è andato tutto bene, un caldo che stai guardando, non trovo neanche un po'. Grazie. Ci siamo rilassati. Magari se non mangi quando parli sarebbe meglio. Vabbè, ma per la dimostrazione che è talmente buono che non posso rinunciare. Sono queste cose carinissime, croccantine melanzane, croccanti, buone. Dove hai preso il panino tu? Fab food, fab food. Fab food, ok, quindi dopo andiamo a salutare. Salutiamo anche l'amica Senni. Grazie mille, siete bellissime, è inutile dirvelo. caro Paco, andiamo avanti, dove sei Enrico? E tanti amici che ritornano da oltreoceano, abbiamo beccato Lina, ciao Lina, sei appena ritornata qui in Italia? Sì, appena appena una settimana. Appena appena una settimana e ti sei beccata subito il Festival della Cistecca. Sì, non lo posso mancare, la Cistecca è uno dei nostri prodotti tipici montesi. Ormai notissimo in tutto il mondo. Sì, vero. Caralina, cosa hai assaggiato fino adesso? Se hai ancora? Niente ancora, niente ancora, sono come vedi appena arrivata, appena completato i biglietti. Però vedo che è armata molto bene, quindi... Molto bene, sì, speriamo che la fila non è tanto lunga, promette bene, quindi speriamo di mangiare al più presto possibile. Poi stasera si sta benissimo, è freschetto, veramente una serata bellissima. È una serata stupenda. Io ho avuto a che fare con tua figlia per i giochi, invece, quindi tutto completo. Tutto per bene, sì, tutto completo, grazie. Grazie mille e buon divertimento. Grazie Franco, anche a voi. Amici di Montediprocita.com, felicissimi di presentarvi anche la nostra amica Virginia che vi dirà qualcosa in merito a questo signore proprio qui accanto. Siamo al Festival della Cistecca a Montediprocita nella sua seconda edizione e questa sera con noi c'è Vincenzo Pellino di Stantanei di Gusto. Vincenzo, tu hai assaggiato la nostra Cistecca, hai visitato Montediprocita, che cosa ci puoi dire? Che siete fantastici, complimenti per l'ottima organizzazione della serata. Che dire, il ritorno è stato piacevole e quindi siamo corsi subito. E complimenti, direi di continuare ancora così, veramente. I lavori del signore? Lui è un importantissimo fotografo, lo trovi in tutti gli eventi, i migliori eventi della campagna. E ieri sera, dove eri l'ultima volta che ti ho visto? Dillo tu. Dove ero? Dove ero? Dove ero? Era USA Consulate del Stato di Un'America. Alla faccia. Il nostro ragazzo. Nella serie non ci facciamo mancare niente. Noi no, a Montediprocita sicuramente no. E allora noi ringraziamo Virginia. Noi no, a Montediprocita sicuramente no.